Una gradita presenza a Pescara su invito del sindacato abruzzese dei giornalisti, il neopresidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli per un primo contatto con la categoria qui nella nostra regione, Presidente. Sì, la produzione è una terra bellissima e l'ho visitata per altri scopi da turista, questa volta un rapporto professionale più stretto con i colleghi per capire una realtà, l'Italia è fatta da tanti territori che vanno valorizzati, sono la vera ricchezza di questo paese, non c'è una periferia, ci sono tante realtà importantissime che vanno valorizzate e si valorizzano attraverso il sostegno e l'esistenza di voci che diano appunto la rappresentazione di queste comunità, che sono comunità fondamentali per la vita del nostro paese, che potranno avere una voce autonoma e indipendente per rappresentare i propri interessi nei confronti del potere. Per chiudere, Presidente, il giornalismo in Abruzzo è questa una regione un po' di confine, possiamo dire, non è una grande regione, però è una regione dove c'è comunque un movimento vivo. Ma è una regione che rispecchia la realtà di molte altre regioni, perché appunto l'Italia è fatta di tante realtà di questo genere, vanno sostenute, perché se noi perdiamo questa ricchezza, che è una ricchezza culturale di territorio, di lingua, di usi, di abitudini, cioè è una sconfitta non solo per la comunità, non solo per il giornalismo, non solo per la democrazia, ma anche banalmente per l'economia, perché non sapremo valorizzare all'estero queste realtà importanti e bellissime e attrarre tante persone che poi verranno qua, consumeranno qua, si stabiliranno qua, si affezioneranno agli usi, ai costumi e a tutte le particolarità di queste zone.